Aspetti un attimo però, vedo il nostro uomo nella notte, Celata sta indicando come se avesse visto con tutto il rispetto visto che siamo in Umbria un santo, ma in realtà più semplicemente visto Beppe Grillo stiamo vedendo una scena che... Cioè stai facendo lo stalker di Grillo, adesso qui facciamo vedere... Sì stiamo facendo lo stalker di Beppe Grillo, lo inseguiamo da questa mattina, siamo in diretta, solo una battuta che è rimasta fuori poi dalla nostra lunga intervista che ci ha gentilmente concesso oggi pomeriggio. Ti sta maledendo, sta chiamando la forza pubblica. No, però oggi mentre stavamo... Io non è che posso risollevarti tutto il mondo. Ma è il contrario, mi hai tolto la parola di bocca. Parla anche tu, Nati. Parla anche tu. Dimmi una cosa breve. Allora dicevamo, stanno dibattendo sul reddito di cittadinanza le altre proposte, per esempio quella del PD o anche di Cel. Lei è interessato, già oggi mi ha detto che le mezze misure al Movimento 5 Stelle non vanno bene. Ma è come i vitalizi, hai capito? O lo fai o non lo fai. Non è che poi salvi De Micheli, Cirino Pombiccio. Che senso ha? Diamo un senso a questa cosa qua. C'è in tutta Europa una cosa simile, poi ognuno se la giusta in base alle condizioni politiche e economiche del Paese. Non è la soluzione del mondo, ma è un segnale per rendere il lavoro in una maniera dignitosa, avere le persone al centro, non il mercato. Se no, tiriamo su generazioni di frustrati che fanno qualsiasi lavoro per avere un reddito. Uno deve avere un reddito per lavorare, non il lavoro per il reddito. Facciamo queste distinzioni, facciamo un dialogo con chiunque, mettiamoci lì. Allora, deriva dal lavoro? No. No, si parte. No, il 40% deriva dal lavoro, il 60% non è reddito da lavoro, è reddito indiretto sul reddito di quelli che lavorano, indiretto vuol dire i figli, i pensionati, quelli che usufruiscono degli ammortizzatori sociali. C'è gente, lo ripeto, c'è migliaia e milioni di persone convinti di avere un posto di lavoro, ma non un posto di reddito, è il reddito che ti tiene dentro o fuori la società. Allora, io voglio che la gente sia inserita, non disinserita, perché uno disinserito dal tessuto sociale delinque, costa molto di più allo Stato come spesa sociale. Un disoccupato senza che delinque in borderline costa 10 mila euro all'anno di costi perché è disoccupato. Allora, li reinserisci, togli il ricatto, togli la malavita, togli il voto di scambio. Questo, poi lo facciamo come volete, lo facciamo con tutti i parametri che volete, troviamo i soldi. I soldi si trovano. Tu prima fai questa cosa qua, ti poni come obiettivo questo, poi i soldi li togli dal gioco d'azzardo, li togli dall'essenza militare. Abbiamo tutto un elenco che è già stato visto dalle commissioni di bilancio, hanno detto che ci sono, sui tagli, sugli sprechi. Ma scusa, ma troviamo miliardi per degli F-35 che sono ormai obsoleti, ormai mandano i droni che arrivano sotto casa, ti guardano e ti entrano in casa. Per disimpegnarci costerete, dal lavoro, parli. Io voglio una mia autonomia di Stato italiano, la voglio, l'abbiamo persa. Senta, a proposito, sul referendum sull'euro che fine ha fatto? C'è, c'è, stiamo andando avanti, raccoglieremo le firme, ne bastano 50.000, non so quante saremmo arrivati, non so. La domando pure perché oggi c'è stato questo voto in Gran Bretagna e per esempio Farage ha perso e si è dimesso. Io non è che voglio fare... No, 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 ma questa è una lezione di eleganza, sono dimessi tutti e tre i leader dei movimenti che hanno perso. Tu vedi una roba così in Italia, io non ce la vedo proprio. Però il movimento, per sé, è il terzo partito, quello di Farage, è il terzo partito in Gran Bretagna. Lui si toglie, smetteranno un'altra persona. Però Cameron... Dice Enzi, con quel sistema elettorale, pur avendo preso, esatto, e che non c'è nessuna dittatura in Gran Bretagna. Sì, ma no, loro hanno... Nel senso sono fuori dall'euro, uno. Poi il secondo, Cameron ha indetto un referendum per stare in Europa, o no. Questi sono i principi che usiamo noi. Noi abbiamo indetto un referendum, se stare dentro l'euro o no. Quindi sono i mezzi che noi usiamo, che sono i referendum. Più democratico di quello, io non credo che ci sia un mezzo così. E Cameron fa un referendum per uscire addirittura dall'Europa. E gli conviene uscire. Gli conviene perché è il più grande paradiso fiscale del mondo, la City di Londra. Quindi, ebbè, ma è certo, certo. Quindi avere dei parametri con l'Europa è secondo me... Nel senso che non è che vogliamo fare dell'Italia un paradiso fiscale. Poi sono inglesi, lei vissi, hanno 40 anni, 45 anni, 48 anni, sono giovani. Pure Renzi. Va bene, ma Renzi non è un giovane. Renzi è un vecchio politico, no. Senta, invece, su questa storia del Grillo Lix. Adesso siamo già andati. Il Grillo Lix. Ma no, quello è divertentissimo. L'hanno chiamata, dice che c'era il suo numero su quel sito. È divertentissimo. Mi stanno chiamando così, ma è divertente, quello che è uscito è molto divertente. C'era qualcosa che non voleva si sapesse. No, l'unica cosa è che ha messo i numeri di telefono. Io, ma il mio si sapeva. Grazie a voi anche il mio indirizzo, tutta la topografia di dove abito, capisci? Voi in senso lato, i giornalisti. Quindi per me, va bene, sono sotto elezioni, guardate. Aspettatevi di più e di tutto, ma queste sono cose ridicoli. Neanche mio figlio Ciro dice queste cose qua. Ce la fa fare tutti i 20 chilometri domani? Perché l'anno data, lo sappiamo, ce la fa. Vediamo, adesso c'è di corsa, un pezzo di corsa. Ma la fate pure di corsa? E poi c'è un salto nel cerchio di fuoco. Questo è per quei parlamentari grassi. Va bene, grazie. E' stato utile essere l'aspetto ludico, sia in realtà molto di più quello delle specificazioni.